Tritberisci ha messo la sua firma in questo 2 a 0 dell'Atalanta al San Paolo. Decidivi alcuni tuoi interventi per mantenere inviolata la Porta Nerazzurra? Sono contento, abbiamo fatto una grande partita tutti noi, anche io ho messo un pezzo di questo per quello sono contento e soprattutto quando serve ci sono. Partita difficile, partita delicata anche perché insomma iniziava da Napoli un trittico importante, Napoli, Fiorentina, Inter. C'è da dire che l'avete iniziato nel migliore dei modi. Sì, sicuramente anche nella partita di andata quando abbiamo vinto 1 a 0 a casa era una partita dove abbiamo alzarsi, abbiamo lottato, abbiamo fatto sempre bene e spero anche questa partita ci dà ancora una forza di più per continuare a sognare per andare in Europa. Cosa Napoli ha cercato di mettervi in difficoltà, non ci ha riuscito? Sì, come ho detto abbiamo fatto una grande partita da tutti noi, soprattutto conosciamo tutti con se stessi, siamo combinati molto bene, abbiamo capito molto bene cosa il mister dice quindi tutto questo fa giocare più semplice e anche sbagliare molto poco. Il quarto posto è confermato, i punti sono 51 in classifica. Sì, però non dobbiamo fermare, va bene oggi dobbiamo festeggiare forse, però domani, la settimana prossima dobbiamo concentrare, abbiamo una battaglia contro la Fiorentina, quindi dobbiamo essere pronti.